Completata tutta l'operazione, velocemente il sito è arrivato a 40.000 visite al mese. Mi chiamo Davide Campomaggiore, sono il titolare di Oro Epic. È un'azienda che fa compravendita di oro. Principalmente il core business è basato sull'acquisto di oro usato da privati. È un'attività già localizzata intorno ad alcuni negozi, abbiamo sei negozi tra Roma e Milano. Per quanto riguarda la vendita di gioielli ricondizionati e oro da investimento, anche online in tutta Italia. Prima di affidarmi a Stratego, avevo riscontrato una grossa riduzione di traffico sul sito, in maniera molto importante, perché c'era una delle pagine che prendeva gran parte del traffico, che era scesa molto nella SERP di Google. Successivamente, una volta che Stratego ha preso in mano la situazione e abbiamo rifatto il sito da zero, e fatto tutta una serie di attività necessarie per riportare il sito in alto, ho riacquistato velocemente tutto quel traffico. In una prima fase è stato anche superiore e adesso si è stabilizzato sul traffico che c'era prima di questo evento che durava diversi mesi, che aveva buttato giù il sito. Ho richiesto la SEO come attività di promozione perché è uno degli asset che serve per generare clienti. C'è sì il traffico a pagamento, ma un asset molto importante è quello del traffico organico, è un'attività lunga, chiaramente, non è immediata come le sponsorizzate che aprono i tubinetti e arrivano clienti, però sono a pagamento, mentre la SEO è più lento, ma è poi più costante nel tempo. Quando ho riaffidato tutta la campagna SEO e questo trasferimento del sito da un dominio all'altro e il rifacimento del sito grafico, era arrivato a 8.000 visite al mese. Una volta completata tutta l'operazione, velocemente il sito è arrivato a 40.000 visite al mese, per adesso stabilizzarsi di nuovo ai 30.000 che era prima dell'evento drammatico. Adesso c'è una base solita su cui lavorare per tornare a salire. Attualmente sono davvero molto soddisfatto. Ieri, ad esempio, è successo che una cliente è partita da Matera, si è fatta 5 ore di macchina per venire in uno dei miei negozi, ed è arrivata tramite organico, tramite SEO, navigando sul sito, perché non faccio campagna a pagamento su Matera, chiaramente.